La prologo di Palma Campania presentato sabato 5 maggio 2012 nel Palazzo Aragonese il libro I cantiti e silenzio del professore Biagio Massimiliano dello Iacono ha moderato l'incontro del giornalista Pasquale Iorio sono intervenuti il sindaco di Palma Campania dottor Vincenzo Carbone, presidente della prologo a professore Antonio Ferrara e Giovanna Scassit, critico letterario ed infine l'autore come si legge nell'invito il professore nel suo libro e nelle presentazioni, nei suoi preziosi evidenzi della cultura partenopea nelle sue incisioni, il fuoco, la rabbia represse di un popolo che cerca da sempre una sua collocazione alla fine un piccolo buffet ha chiuso la serata